Noi stiamo perfettamente d'accordo con il Presidente della Repubblica perché è stato un DDL, ne abbiamo discusso direttamente con Bitonci del Ministero, lo avevamo avvisato che una cosa così sarebbe stata impugnata in qualche maniera, lo ha fatto direttamente il Presidente della Repubblica. Soddisfazione della categoria degli ambulanti del Nord-Est per il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tema delle concessioni contenuto nell'ultimo DDL concorrenza. Nel mirino del Colle le norme che prorogano i permessi per il commercio ambulante che porta a precarizzare il lavoro. Noi siamo 180.000 aziende in Italia, siamo 180.000 aziende che sono ferme dal 2010, anno del ricepimento della direttiva Bolkestein. Da quel momento lì siamo sempre andati avanti con proroghe, 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 proroghe. Lei capisce bene che con una proroga di un anno, due anni io non posso poter investire in autoveicoli, in personale, in magazzini, in scorti di merce. Devo vivere la giornata. Una direttiva del 2010, la Bolkestein, che mira disciplinare la concorrenza all'interno di uno Stato, nata per regolamentare i settori legati alle concessioni pubbliche, commercio ambulante, gestione di aree e balneari, e nei quali le continue proroghe, come quella stabilita dall'ultimo disegno di legge, stanno di fatto rendendo complicati gli investimenti a lungo termine degli operanti nel settore. A conseguenza di tutte queste proroghe i mercati si stanno svuotando perché nessuno piuttosto di investire al buio preferisce cambiare mestiere. Quindi basterebbe semplicemente mettere a bando quelli che sono i posteggi vuoti nei mercati, riqualificandoli, riportando la gente al mercato, che crea sicurezza, aggregazione, pulizia e vitalità dei centri storici. Queste le richieste da parte degli ambulanti del Nord-Est che dopo la notizia della missiva di osservazioni inviata al Parlamento e al Governo sono in fermento e chiedono di essere ascoltati. Portare avanti quella che è una riforma del settore, in cui il settore viene blindato con i rinnovi, è una vera e propria riforma che ci permetta come categoria di poter ricominciare a reinvestire nel proprio nostro lavoro. Ci aspettiamo che si apra un tavolo in cui ci si possa sedere con persone competenti e si possa prevedere un percorso per questa categoria.